Un saluto dalla redazione di Telemolise e benvenuti all'edizione della notte del nostro telegiornale. Dunque è stato il giorno delle candidature per le prossime elezioni regionali, il termine è scaduto stamattina a mezzogiorno. Alla fine sono quattro i candidati alla carica di Presidente della Regione, oltre a Francesco Roberti del centrodestra e Roberto Gravina del centrosinistra. Ci sono anche Emilio Izzo con il suo movimento Io non voto i soliti noti e poi a sorpresa anche Forza Nuova che candida Nicola Ninni. 15 invece le liste in campo. Il riassunto della giornata con tutte le informazioni sulle liste in campo nel servizio di Pasquale Di Bello. Molise-Catania. Con un titolo alla Wim Wenders stile Paris-Texas potremo sintetizzare il quadro di riferimento all'interno del quale si andranno a celebrare le prossime elezioni regionali in programma il 25 e 26 giugno. Il Molise in maniera quasi sovrapponibile ha infatti la stessa popolazione della cittadina messa ai piedi dell'Etna e quindi per bacino elettorale quelle molisane appaiono più le elezioni di una città medio-piccola che di una regione. Tuttavia una differenza c'è, poiché se nella città di Sant'Agata talvolta esplodere l'Etna, in Molise la detonazione l'hanno fatta i candidati a Palazzo Vitale e Palazzo Daimmo. Chiusi i battenti del Tribunale di Campobasso, dove è avvenuto il deposito delle liste e dei candidati in corsa per le prossime regionali, quella che si è registrata è una vera e propria esplosione di candidati. Diamo quindi i numeri a partire dai candidati alla presidenza della regione, che sono quattro, Francesco Roberti per il centrodestra, Roberto Gravina per il centrosinistra e poi in corsa singola, Emilio Izzo per la lista Noi non votiamo, i soliti noti, e Nicola Ninni per Forza Nuova. Le liste di partito complessivamente presentate sono 15 e tra queste 7 collegate a Francesco Roberti e 6 a Roberto Gravina. Andranno col sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso le liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia, il Molise Che Vogliamo, Udc, Popolari per l'Italia, Lega e la lista Roberti presidente. Correranno invece a fianco al sindaco di Campobasso le liste del Movimento 5 Stelle, PD, Costruire Democrazia, Alternativa Progressista, Molise Democratico e Socialista e la lista Gravina presidente. Da vertigine il numero complessivo di candidati, 284, che andranno a contendersi i 20 posti a disposizione nell'Aula del Consiglio regionale. Fatti raggi X a questo quadro generale, dalla lastra che ne viene fuori, possono leggersi chiaramente una serie di elementi. Il primo dato che salta gli occhi è la ricandidatura pressoché generale di tutto il Consiglio regionale uscente, con la sola eccezione di Donato Toma, destinato ad un approdo romano, a ripresentarsi è tutta la maggioranza di centrodestra. In Forza Italia saranno in corsa gli uscenti Filomena Calenda, Nicola Cavaliere, Vincenzo Cotugno, Roberto Di Baggio e Andrea Di Lucente. In Fratelli d'Italia ci saranno Quintino Pallante, Michele Iorio, Aida Romagnuolo, Armandino De Gidio e Salvatore Micone. Gianluca Cefaratti è invece nella lista il Molise che vogliamo, mentre Vincenzo Niro correrà con i popolari per l'Italia. Complessivamente quindi nel centrodestra a ricandidarsi sono 12 consiglieri regionali uscenti su 12. Fatta eccezione per Patrizia Manzo, giunta nel Movimento 5 Stelle al limite del doppio mandato e del collega di partito Valerio Fontana, che ha deciso di non ricandidarsi, la situazione quanto a quadro generale non cambia nemmeno tra le opposizioni. A ripresentarsi sono 6 consiglieri uscenti su 8, 4 in corsa nel Movimento 5 Stelle, Greco, Nola, De Chirico e Primiani, 2 nel Partito Democratico, Facciolla e Fanelli. Un altro dato trasversale è il tentativo che faranno ex consiglieri e assessori regionali di tornare a Palazzo d'Aimmo. Questi i nomi Massimo Romano e Antonio Tedeschi in Costruire Democrazia, Massimiliano Scarabeo e Cosmo Tedeschi in Fratelli d'Italia, Candido Paglione, Pierpaolo Nagni e Francesco Totaro nel PD, Domenico Di Nunzio e Felice Di Donato nella lista Gravina, Presidente Nunzia Lattanzio nella lista Il Molise che vogliamo e Michele Scasserra nei Popolari per l'Italia. C'è poi la falange, anche questa trasversale, costituita da sindaci e amministratori vecchi e nuovi, oltre 40 candidature a testimonianza di un deciso ritorno alla politica per il Molise dopo la chiusura della stagione legata all'esperienza civica. L'ultima notazione riguarda la sorte di quello che sino a ieri abbiamo chiamato terzo polo. Italia Viva e Molise al centro sono confluite nella lista dell'Udc. E dunque diciamo sarà una sfida a quattro per la presidenza della Regione. Stamattina a mezzogiorno, subito dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle liste, in tribunale stretta di mano tra i candidati del centrodestra e centrosinistra, Roberto Gravina e Francesco Roberti abbiamo raccolto le loro prime dichiarazioni dopo l'ufficializzazione della candidatura. Roberto Gravina con la presentazione delle liste, delle coalizioni, dei candidati, presidenti, dei partiti, si entra nel vivo della campagna elettorale, si chiude una fase che ha portato a questo giorno, adesso si apre questa campagna elettorale. Allora a questo punto qual è il suo primo messaggio a questo punto da candidato presidente ai molisani? Il messaggio è che non ho assolutamente intenzione di fare una campagna elettorale divisiva per territori. La mia non è tattica, avremo modo di dimostrare che chi si candida a fare il presidente della Regione Molise si candida a governare tutta la Regione con una rappresentatività, l'ho già detto, con le caratterizzazioni di ciascun territorio, ma non sono disposto a scendere in campo creando delle divisioni. Lascio con affetto simbolicamente l'amministrazione comunale di Campobasso ma penso di aver dimostrato insieme alla Giunta che si può lavorare anche nell'interesse della Regione Molise da città capoluogo. Ecco una campagna elettorale che parte all'insegna del fair play, c'è stata una stretta di mano tra lei e Francesco Roberti, è un bel segnale per l'intero Molise? Ma sì certo, io insomma per mia natura dialogo e ho un dialogo con tutti, con il presidente della provincia, insomma questo dialogo c'è stato, siamo sindaci entrambi e quindi credo che gli stessi sindaci abbiano dimostrato grande senso di comunità anche tra loro. Francesco Roberti, siamo al via, effettivamente la campagna elettorale con la presentazione delle liste, lei è venuto personalmente qui in tribunale, innanzitutto quali sono i suoi sentimenti in questo momento? No vabbè abbiamo fatto un bel lavoro, siamo un po' stanchi anche se ora non lo possiamo dire perché dobbiamo iniziare la campagna elettorale, però siamo arrivati a comporre sette liste, c'è stata molta sinergia tra i partiti ma soprattutto condivisione e devo dire che in qualche maniera ognuno ha messo da parte quegli anticorpi che scattano durante la campagna elettorale ma tutti si sono impegnati e ci impegneremo per questa campagna elettorale per ottenere la vittoria. Le liste sono belle liste, ben fatte, c'è una bellissima aria ma soprattutto entusiasmo nella partecipazione di questa campagna elettorale. Quali sono stati i criteri che hanno dettato la composizione della sua lista? La mia lista, così come l'avevo già annunciato, ci sono amministratori, professionisti, gente che rappresentano le diverse categorie, quindi una lista di persone che non hanno mai fatto politica, che non sono mai state in consiglio regionale e che vogliono avvicinarsi al governo regionale, quindi in qualche maniera a ottenere un risultato ma soprattutto a lavorare per una squadra e per la vittoria. Fin qui le dichiarazioni dei candidati alla carica di Presidente, adesso andiamo nelle coalizioni per ascoltare i commenti dei leader. Cominciamo dalla coalizione di centrodestra, vediamo. Senatore Lotito, la lista di Forza Italia viene presentata qui in tribunale, tutto il centrodestra compatto, un bel lavoro, come si è composta la vostra squadra? La nostra squadra si è composta, come avevo preannunciato, mantenendo chiaramente in lista alcune persone di esperienza e diciamo che è una metà, anzi molto di più, di 15 persone che sono nuove e che portano l'infa vitale al partito. È una lista con amministratori, professionisti, rappresentanti di categoria e persone impegnate in politica. Sono persone tutte motivate e quindi sono sicuro che faremo un gran bel risultato. Certo, il centrodestra è unito e correrà insieme per tornare a vincere le elezioni regionali del Molise del prossimo 25-26 giugno. Quali sono stati i criteri che hanno informato la composizione della vostra lista e quali sono i temi caratterizzanti che porterete nell'alleanza? I temi che noi ci contraddistinguono sono ben noti ormai da diversi anni. Nel campo voglio ribadire l'importanza di continuare nel sistema infrastrutturale che già in questi cinque anni abbiamo avuto l'opportunità di poter distribuire sul territorio risorse finanziarie, soprattutto sulla viabilità per oltre 345 milioni di euro con un obiettivo che c'eravamo prefissati già dal 2018 e riguarda soprattutto il riportare in attenzione nazionale del Governo nazionale la nota questione del collegamento A1-14. Non poteva mancare il simbolo dell'Udc, il simbolo della democrazia cristiana che rappresenta per noi lo scudo crociato, che rappresenta per noi un pezzo di storia. Quindi la lista, nonostante abbiamo avuto qualche problema antecedente negli ultimi giorni di qualche illustre defezione, però io auguro a tutti di raggiungere il massimo in politica. Nonostante tutto, con uno sforzo direi quasi sovraumano, abbiamo chiuso la lista. È una lista apprezzabile. Michele Di Bartolomeo, alla fine la vicenda che ha riguardato la sua lista ma anche le altre liste che componevano il cosiddetto terzo polo si è conclusa con un ingresso nella lista dell'Udc. Intanto Molise al centro aveva già espresso le proprie perplessità riguardo a un progetto centrista da avviarsi in questo momento storico. Non c'erano i tempi per poterlo avviare. Abbiamo costruito delle alleanze con Italia Viva, con Azione, con Insieme. Abbiamo stretto rapporti, il che ci consentirà anche nell'immediato futuro di pensare a un qualcosa di centro che possa avere una prospettiva di lunga durata. E a proposito del centro-destra, il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Lotito ha acquisito ad Interim il ruolo di coordinatore provinciale di Isernia al posto del coordinatore uscente Raimondo Fabrizio, candidato con la lista Il Molise che vogliamo. Il partito in una nota spiega che la decisione è al fine di una migliore, migliore e più efficiente organizzazione in vista delle elezioni. Dal centro-destra al centro-sinistra ascoltiamo ora le interviste ai leader della coalizione. Buone interviste raccolte sempre stamattina in tribunale durante la presentazione delle liste. Segretario Facciolla, il PD presenta la propria lista. Quali sono stati i criteri di composizione e quali sono le caratteristiche che portate all'interno della coalizione? Ha una caratteristica straordinaria, una più delle altre, è composta a 12 donne e 8 uomini. Fra altre cose sono tutte ipercompetitive, questa volta abbiamo dato il meglio di noi stessi, provando ad occupare ogni spazio territoriale, con le competenze, la qualità, con amministratori, con una buona capacità, come dicevo, di rappresentare un po' l'intero territorio. Dall'Alto Molise sino al Basso Molise abbiamo pereguato anche numericamente questi spazi. Ci sono sei candidati dell'Alto Molise, sette del Molise Medio e sette del Basso Molise, quindi della federazione di Termoli. È un'occasione molto importante perché non è frutto della casualità, ma è frutto appunto di un percorso molto lungo fatto da un punto di vista politico sul territorio, fatto da un punto di vista politico a livello nazionale. Abbiamo messo insieme la volontà di cambiare questa regione e quindi con il Partito Democratico e gli altri partiti e volimenti dell'area progressista abbiamo costruito una proposta politica intorno alla migliore figura di sintesi che potessimo trovare, quella di Roberto Gravina. E questo ci riempie ovviamente di orgoglio e ci porta alla fine di questa giornata di procedimenti burocratici a far partire una campagna elettorale che sarà molto molto importante per noi. Qual è il contributo specifico del Movimento 5 Stelle all'interno dell'alleanza progressista? Il contributo è sicuramente quello della coerenza e della forza dei nostri progetti, della nostra attività fatta in dieci anni in Regione. Massimo Romano, a questo punto il ritorno di costruire democrazia oltre che annunciate ufficiale. Allora lei è in lista, ma diamo un po' una panoramica generale di come è stata composta la lista e qual è il vostro valore particolare all'interno della coalizione che sostiene Gravina? Il 25 aprile, data simbolica con gli amici sostenitori e promotori di Costruire Democrazia, abbiamo lanciato un sasso nello stagno. L'abbiamo fatto all'interno dell'area progressista della coalizione alternativa al governo regionale uscente che ha deluso credo davvero tutti. Costruire Democrazia è una lista di professionisti, di medici, di insegnanti, di imprenditori che si colloca all'interno appunto della coalizione a sostegno di Gravina Presidente per cercare di cambiare le sorti di questa regione. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare un'area civica che possa testimoniare innanzitutto i temi del diritto alla salute. Questo è il primo primario e prioritario obiettivo che tutta la lista si prefigge perché oggi questo diritto è negato. È una lista che appunto guarda l'ambiente, la sanità, i diritti dell'individuo come elemento fondante non di una concezione teorica ma di pratica nelle vite delle persone che rappresentano questa lista. Speriamo insomma un sostegno di tutti e tutti i molisani e siamo pronti a portare il valore aggiunto alla Gravina, al nostro candidato presidente. È stata una scelta ponderata ma l'abbiamo ritenuta necessaria e giusta in questo particolare del momento. Era giusto che noi scendessimo in campo andando anche un po' aprendoci al mondo della società civile, del volontariato e speriamo che insieme riusciamo a contribuire alla vittoria di Gravina. Infine parliamo della presentazione delle liste delle formazioni minori che corrono sempre per la presidenza della regione. Nicola Nini è il candidato di Forza Nuova che però ha preferito stamattina non rilasciare le dichiarazioni. L'altra formazione in campo è Io non voto i soliti noti che candida alla presidenza Emilio Izzo. Anche Izzo stamattina non era presente in tribunale ma abbiamo raccolto le dichiarazioni di Nicola Lanza, uno dei candidati della lista. Vediamo. Nicola Lanza è stata presentata la lista Io non voto i soliti noti che ha come candidato Presidente Emilio Izzo. Intanto cerchiamo di spiegare qual è il messaggio che lanciate perché io non voto ma viene aggiunto i soliti noti. Ecco, qual è il significato della lista e quali sono i contenuti programmatici? Intanto avevamo chiesto alla politica di fare uno sforzo per trovare una sindesi con nominativi che potessero essere di rappresentanza e che dessero un segnale di cambiamento. Voi sapete che la nostra lista era a disposizione per la candidatura di Domenico e Annacone. Questo sforzo, questa nostra volontà di metterci a disposizione per un cambiamento reale non è stato colto dalla politica. Ci hanno costretti ad andare da soli in un sistema elettorale che massacra la democrazia perché sapete bene che ci sono soglie altissime dell'8% e siamo qui intanto per dare voce a tutte quelle associazioni che hanno fatto un passo indietro. Penso a Molise domani, penso alle tantissime associazioni civiche che si sono sentite tradite, che in questo momento hanno una voce che può rappresentare le istanze della società civile e le lotte che noi abbiamo sempre fatto. Dunque con la presentazione delle liste parte la corsa verso le regionali e intanto ci si avvia la chiusura del mandato per il Presidente uscente Donato Toma che non è ricandidato. Per Toma è tempo di bilanci. Le ho attracciato nel corso della trasmissione di ingresso libero qui a Telemolise nel quale ha parlato degli ultimi cinque anni trascorsi ai vertici della Regione. Ha anche detto che a un ultimo impegno si vorrebbe approvare il bilancio con una ultima seduta del Consiglio regionale prima delle elezioni. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Tempo di bilanci per il Presidente della Regione Donato Toma giunto assieme al Consiglio regionale a fine legislatura. Un bilancio tracciato nel corso della trasmissione ingresso libero condotta da Pasquale Di Bello andata in onda su Telemolise. Sono stati cinque anni difficili caratterizzati anche da alcune emergenze tra cui la pandemia da Covid che tuttavia ha detto Toma la Regione affrontato per dare risposte ai cittadini. Nei due anni e mezzo di pandemia noi comunque abbiamo amministrato, abbiamo amministrato una circostanza sconosciuta. Nessuno di noi Presidenti di Regione si era mai cimentato con una pandemia. Abbiamo dovuto all'inizio trovare la strada da seguire per far fronte a questo infausto evento. Poi il Molise ci è riuscito molto bene, devo dire perché i numeri lo dimostrano. Abbiamo istituito alla fine quando abbiamo cominciato a vedere questa luce in fondo al tunnel, i centri vaccinali, abbiamo coinvolto tutta la popolazione nel vaccinarsi. Siamo riusciti con oltre un centinaio di ordinanze a regolamentare le cosette zone rosse, le zone bianche, le zone gialle. C'è stata una collaborazione con il governo e con gli organi tecnici del governo giornaliera. Io avevo anche 4-5 riunioni giornaliere e notturne con vari enti, in primis il governo, ma con l'unità di crisi che ho coordinato in tutti i due anni e mezzo. Non è stato sempre facile acquisire le opinioni anche degli esperti. Insomma, è stato un sacrificio personale in termini di energie personali enorme, al quale non ero abituato. Il governatore uscente ha annunciato che cercherà di far convocare un'ultima asseduta del Consiglio regionale per approvare il bilancio in modo da lasciare una regione pienamente operativa. Se la struttura riesce a portarmi in giunta un bilancio tecnicamente approvabile, noi lo approviamo. Se dovesse portarmelo, faccio un'ipotesi, per gli inizi di giugno, ipoteticamente prima del 24 di giugno potrebbe andare in Consiglio ed essere approvato in Consiglio. E adesso parliamo di sanità e in particolare della comunicazione in urgenza emergenza. È stato il tema di un corso di formazione rivolto agli operatori sanitari e ai giornalisti organizzato dall'ASREM e dall'Università con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti. Diceva per noi Marta Martino. Che un medico, un operatore sanitario, un infermiere sia un ottimo professionista è quello che si dà per scontato e quello che ci si aspetta, ma che sia un ottimo comunicatore non è così scontato. Eppure è una capacità fondamentale, visto che si ha a che fare con un'umanità portatrice di problemi e sofferenze. Nel pronto soccorso una comunicazione corretta e valida potrebbe ridurre lo stress e il burnout degli operatori sanitari, che sono il primo filtro per il paziente e quindi anche il primo soggetto che subisce la sua frustrazione e far diminuire l'aggressività e le reazioni dei pazienti che spesso non comprendono cosa sta accadendo intorno a loro. Sapere esprimere nel modo giusto le parole giuste e con le giuste tecniche sarebbe di fondamentale aiuto. Di questo si è parlato nel corso di formazione organizzato da ASREM e Unimol nell'Aula Ippocrate della Facoltà di Medicina a Campobasso. Sicuramente esistono delle tecniche. Non tutti siamo portati per comunicare dalla nascita. Questo significa che comunque laddove abbiamo delle carenze dobbiamo colmarle, anche con un training specifico e con un'attenzione specifica anche dal punto di vista dei mezzi e delle strutture. Ad esempio noi spesso abbiamo la necessità di comunicare situazioni anche luttuose o comunque situazioni di salute molto gravi che vanno comunicate anche in ambienti giusti, lontani dalla folla e con i metodi giusti. Quindi necessita di molta attenzione e questo è il motivo per cui oggi siamo qui fondamentalmente. La situazione del pronto soccorso è già di per sé stressante per via dei turni estenuanti e il personale è sempre carente, ma è qui che viene gestita l'emergenza e l'urgenza che si traducono in codici rossi e arancioni e situazioni sicuramente serie ma meno gravi con codici azzurri, verdi e bianchi. Ed è nel pronto soccorso che si possono verificare esplosioni di rabbia e aggressività di chi soffre e ritiene di non essere considerato abbastanza e soprattutto in questi momenti che una corretta informazione potrebbe aiutare sanitarie e pazienti. La capacità comunicativa e qui si diceva del triagista sta proprio nel cercare di far capire a chi sta davanti che l'urgenza vera, l'emergenza non aspetta in nessun pronto soccorso d'Italia. Aspettano questi codici intermedi che per carità certamente sono persone che non stanno bene perché se no non sarebbero in pronto soccorso, ma che diventano poco tolleranti e molto aggressivi rispetto al personale. Ora il personale però non può rispondere con l'aggressività e qui sta la capacità di comunicare perché tu sei un professionista e quindi sei pagato per non essere aggressivo. Quindi se non sei capace perché naturalmente non hai la dote è necessario che tu faccia dei corsi ed acquisisca delle tecniche in modo da poter come dire reggere l'impatto con l'aggressività di chi è lì che magari sono tre ore che aspetta per certi versi può anche aver ragione. Adesso andiamo a Termoli dopo lo sciopero indetto dall'Unione sindacale di base davanti ai cancelli della Stellantis. Scendono in campo anche i metalmeccanici della RSA FIOM CGL. Nei giorni scorsi le sigle sindacali con una lettera avevano sollecitato la politica regionale e nazionale a convocare un tavolo ministeriale per discutere delle ricadute occupazionali e sociali della Gigafactory ma non hanno ricevuto risposte. Sentiamo Francesca Danversa. Uno sciopero di otto ore su ogni turno di lavoro indetto per la giornata di oggi fino a quando non riceveremo risposte e quanto hanno dichiarato i rappresentanti sindacali della RSA FIOM CGL. Lo scorso 14 marzo i sindacati nazionali avevano richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del Lavoro la convocazione di un tavolo nazionale per discutere sulle conseguenze occupazionali e sociali future collegate alla realizzazione della Gigafactory a Termoli, possibili ripercussioni che interesserebbero l'intero territorio regionale e per questo motivo nei giorni scorsi avevano lanciato un appello anche alla politica regionale affinché convocasse un tavolo ministeriale che fosse parte attiva della discussione. In ballo ci sono 2200 lavoratori e lavoratrici dello stabilimento di Termoli che in prospettiva non avrebbero garanzie occupazionali se non si interviene subito, hanno dichiarato i sindacati. Non ricevendo alcuna risposta hanno deciso di scendere in campo ma prima di loro nei giorni scorsi a gridare il loro dissenso i rappresentanti dell'unione sindacale di base e continua anche oggi. No ai recuperi, no agli straordinari, no alle minacce ai lavoratrici e ai lavoratori, no al contratto collettivo di lavoro. Questo è quello che ripetono. È vero, al di là degli incentivi che sono stati dati alle persone che hanno voluto andare via, Santi e Benedetti, noi abbiamo perso posti di lavoro che tutto il Molise paga. E dentro questa realtà che è numerica ci troviamo a subire delle incongruenze del tipo si richiedono straordinari obbligatori e nello stesso periodo ai lavoratori di questo stesso stabilimento, quindi dello stesso gruppo azionario, quello che ridivide utili tra gli azionisti, si chiede di fare cassa integrazione. Quindi perché si ha bisogno di un aiuto da parte dello Stato, l'aiuto di tutti i cittadini italiani quando poi si redistribuiscono utili? Punta nel dito contro il contratto collettivo specifico di lavoro che ha permesso questa situazione e ai sindacati confederati che lasciano carta bianca all'azienda. L'attività sindacale degli ultimi 30 anni si è fondata sulla concertazione, una concertazione che è stata disastrosa sia dal punto di vista dei diritti ma anche dal punto di vista del blocco dei salari. Siamo l'unico paese europeo in cui è certificato che i salari sono scesi negli ultimi 30 anni, mentre bisogna sfatare anche il falso mito che i salari in Italia sono bassi perché la produttività è bassa. Non è così perché la produttività in Italia non cresce al pari di altri paesi ma è sempre cresciuta, ma contemporaneamente i salari continuano a scendere, sono scesi e continuano a scendere. Altra richiesta che avanzano è l'aumento subito in busta paga di 300 euro. La tecnologia sempre più al servizio della medicina. Parliamo di una nuova strumentazione che consente più facilmente di poter verificare la vista nei neonati e nei bambini più piccoli. Vediamo. Dottor Francesco Laurelli, questo apparecchio che sembra all'apparenza una macchina fotografica in effetti è un apparecchio utilissimo perché di nuova generazione serve soprattutto per misurare diciamo l'intensità ai bambini. Sì, oggi è possibile rispetto al passato visitare bambini anche appena nati. Per molte ragioni lo si fa, i pediatri spesso lo chiedono per escludere che il bambino possa avere patologie importanti come una cataratta congenita oppure malattie tumorali. Il vantaggio che abbiamo con questo apparecchio è che riusciamo a qualsiasi età a fare un'analisi molto precisa della quantità visiva del bambino. L'esame dura pochi secondi, il bambino viene attirato attraverso un rumore, ci sono dei suoni che partono dall'apparecchio, il bambino guarda lo schermo di questa che sembra una macchina fotografica e in tre secondi riusciamo a sapere se il bambino ha o non ha malattie agli occhi. Non solo, ma si può misurare anche evidentemente proprio la vista. Sì, nei bambini un po' più grandi, parliamo di bambini da due anni in su, riusciamo addirittura senza alcuna collaborazione da parte del bambino a stabilire se questi ha bisogno di occhiali oppure no e quindi eventualmente fare la prescrizione. Ci sono sempre più attrezzature al servizio della tecnologia perché evidentemente questo bypassa un problema, avere a che fare con bambini molto piccoli può essere, perché il bambino non collabora, con questo c'è la soluzione a tutti i problemi. Sì, allora la tecnologia inoculistica viaggia molto velocemente. Nell'arco di sei mesi noi abbiamo avuto dei cambiamenti molto importanti e per fortuna alcune aziende, soprattutto israeliane, sviluppano apparecchi sempre più performanti, con capacità impensabili fino a qualche anno fa. Il vantaggio che abbiamo con questo apparecchio è di stabilire con certezza se un bambino, anche in tenerissima età, ha malattie agli occhi oppure no. Bene, con questo servizio termina anche l'edizione della notte del Tg di Telemolise. Io vi ringrazio per averci seguiti, vi auguro un buon fine settimana.